bella ragazzi qui è giastron sono troppo sexy e sto giocando con cric vabbè se non cominci con la cazzola reggae di ron sexy non faccio il video bella ragazzi siamo tornati sono qui in compagnia di johnny che mi ha prestato 20 minuti per fare una intro che non farò mai bella ragazzi ancora qui è giusto ancora in reggae mode inizia la partita sei pronto a farti arare sul campo e lo so lo so perché oggi andremo contro la potenza totale di johnny creek guardate la mia squadra perché la corazzata potionkin creek la tri vincita contro johnny ottio sarà pronta siamo arrivati pronti è over 9000 attenzione over 9000 attenzione allora attenzione cominciamo a allora ho paura mamma mia ronaldo nero cento 172 red bull le abbiamo prese mamma ma sto tremando sto tremando sono agitato la ronina è già in circolo ho caldo aspetta un attimo aspetta un attimo che non mi sento pronto sei caldo non puoi farlo anche in topless cosa puoi farlo in topless in commento sei caldo per il bene di chiunque stia guardando aspetta che non stavo cominciando c'ho persino il joystick ma no è distruggo tutto what a bug no 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 please god ok gol cos'è giusto è giustissimo ho fatto fallo io che cos'è l'arbitro che azzurro anche l'arbitro e infatti io io stavo passando l'arbitro è azzurro lo stavo marcando e se rodriguez ho fatto attenti samuel samuel no dai 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 sì ed è giù l'uno ed è giù l'uno samuel c'è samuel c'è samuel c'è samuel c'è samuel mille grandi soddisfazioni dov'è ti sei mutolito per piacere datemi una squadra di una corazzata potionchi datemi la forza di distruggere questo ragazzo mamma mia corri corri come sto vai cos'è sto bug dai oris è una piovra maledizione un octopus ma cos'è ronald dove la telecamera che prima ho tirato il pugno si è spostato tutto dai bagga bagga please baggate baggate tutto facciamo un bagger match se vinco io mi dai ronaldo se vinci te ti do l'ori se vinci te ti do fuoco alla casa no 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 guys come on perché è alta taci che la partita è ancora lunga non fare oh dai ma ferma dai dai no così occhio ronaldo no che rodriguez no dai quella difesa è ovunque cazzo vai samuel give me the ball give me the ball tornate dietro a camperare col difensore dai com'è passata ma come è passata quella balla dai regà ma scusa ma guardate che culo gli passi ma cos'è che culo come cazzo è passata quella pa cos'è ma che passaggio è non era neanche un passaggio ragazzo terra aiuto mamma mia ronaldo non riesco neanche a fargli arrivare la palla no please samuele dai guardo tira samuele tira sta cazzo di palla mamma mia questa volta è la volta buona che veramente mi denunciano all'fbi guarda come corre sto bug vai ti tenta di fare gol di cross tenta il gol di terzo no no blocca vabbè cristoforo colombo c'è in porta l'uomo ragno c'è dai attenzione calcio no è gol da calcio d'angolo clic oh via oh no dall'altra parte dai ma non è possibile non entra mai ma che cazzo è stregata la porta tua dammila dai non riesco a passare neanche con ronaldo vai vampersi dai vai vampersi oh rega ma non è possibile ma non ma cosa ma non so più no ho sbagliato ancora eh già ne tutto secondo tempo oh fermatelo quanto corre quanto corre da bug fermatelo quanto dai tirate fate qualcosa mamma mia ho visto che mi stava per tirare anche a me in porta si wayne dai vai john wayne va in persi madonna madonna dai ma cos'è ma non è possibile siamo in 50 no incredibile raga ma mi si bag so so troppo scarso samuele non sa cosa fare è in difficoltà ma ce la fa dai questo qua quello mi si mette davanti samuele fallo rigore arbitro di rigore sei pazzo che cazzo fa ronaldo qua oh 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 no 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 e se no perché tutto sto tempo e se contro pieni bagatti basta para tutto para tutto è impossibile fare gol lori the monster l'uomo ragno è quello fermalo ma ancora non entro neanche il gol della rovesciata neanche la rovesciata paratutto ecco vai samuel eccolo lì no samuel dritto per dritto ma cosa succede caspero oh dio giorni alba è diventato casper ma perchè si buggano oh dio maia ferma 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 chi è questo bug quanto l'ha di velocità questo qua levati levati dalla strada si oh no no ronaldo si ronaldo ronaldo si dai dai sto bug di merda lo sapevi era un bug si lo sapevo che bug come on guys come on che bug come on guys ultra non so cosa mettere dammi la palla dove vuoi andare ho sbagliato trickshot no no ancora il bug esci nari esci si no no ancora lui il bug ancora lui il bug il bug non puoi si si ultradifensiva non puoi metto dentro starridge giuro che metto dentro starridge adesso eh fermali no 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 la beffa così no oddio la beffa all'83 no johnny oh oh mantiene il pareggio e si non in ma non vale si si potevo finalmente con una squadra completamente spareggiata sto vincendo non è almeno hai fatto tre tiri come on come on come on hai fatto tre tiri io non ho parole come on hai fatto tre tiri che cosa fa come on sei un bug vai ragazzi sei un bug hai fatto tre tiri ragazzi si si ci è venuta la velocità corri non ci vedo hai canto bellino ma come corre fermate stagliategli la testa nooo non vi è venuta la skill devo pareggiare ho tre secondi per pareggiare tutti in attacco magari prendiamo anche un altro gol ma tutti no vai persi no gol se se cric se cric se cric cric godo 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 dove sei cric sto sono in un'armeria sono in un'armeria a comprare la pistola perché ti interessa ha 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 ho un infarto jolly ho un infarto ho preso un palo gol guardalo va persi guarda quando fa vedere tre volte replay mi verrebbe vuoi di strappargli le palle vai william no vai william attenzione attenzione il bug di testa no No, hai capito male Ron Il bug di testa No, please Vai persi Ottima occasione Oddio Si tira No No Ho un segnante al 92 Porche troia Scegli te cosa fare Tempi supplementari e rigori Ho un infarto Ho un infarto Sto male Basta, tu ti li butto dentro Basta Anch'io, cambio Basta, basta Come on guys Cambi Ho un infarto Gianni Sto male Pronto FBI No, non sono in casa Arrestatemi dopo Pallo goal Ron Pallo goal Ma non posso dire niente Perché sono Come l'ho messo Ho Ronaldo Nero Ho tutta quella gente Hai buggato come satana Fino adesso Devo riuscire Finicila Devo riuscire a pareggiare A fare gol C'ho anche la bronco Dai dai C'ho pure le caldai Le vampate di calore Ho un infarto Morirò dopo la partita È stato bello ragazzi No Ferma il bug Ferma il bug No maledizione Bravo un via Fermalo Fermalo Via 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 sta palla Montano La casa tua Fuori dallo stadio Fai Cesar Pratt Una volta tanto Via Mamma via Ron Come cade in tentazione Di spostare Di buttare via la palla Madonna mia Sto soffrendo Guarda È un assedio Finale C'è tutti i bug In attacco Che culo Mo faccio arrivare Ronaldo difensore Starridge 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 Corri Corri Starridge Mica se si va dritto Si fa gol No Ronaldo Oh Il bug Oh Oddio Lì si è bloccato il cuore Go Starridge La prende di schiena Dai Ma che cazzo succede No Attenzione No Attenzione Ma che cosa fa Go Lui Ma perché hai finito Tutti i piedi Direttamente A 300 all'ora Attenzione No 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 Torna Torna Ho sbagliato Ho sbagliato Il bug No Copri 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 Palla Ronaldo Zincatelo Ma che cazzo E' la vista Non passi Non passi Come angolo Angolo No No Gianni No No Aspetta No 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 Gianni No Non puoi fare gol Da calcio Non era neanche calcio D'angolo No Via Oh Via Ronaldo No eh Ma perché la butta fuori Go Starridge Go Starridge Verso il portiere Oh Boom No Finita No Mi son tenuto I rigori No Eh Mi serve la roba dell'intro No Vai Santino Perché Santicazzo Vabbè Vabbè Attenzione Ma no Ma cos'è Neymar E' entrato anche Neymar Da dove cazzo è uscito Questo Questo Se 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 Starridge Ma c'ha due di tiro Starridge Se Starridge Se Starridge No Ronaldo 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 No Centrale Tutte centrali Le tue E tu Samuele Fa il bra No L'ho sbagliata L'ho sbagliata Col piede Ma cos'è con il ginocchio Mamma mia Di Maria Parmalò Parmalò L'avevo indovinata John Ma no William C'ha tipo il pezzo verde Che è un centimetro Sinto che io non ho rigoristi Eh Infatti Gol Non so come ha fatto Oh mio L'avevo messo dentro Parala Parala Iniesta Iniesta A tiri centrale No Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Che sei un fagato Cazzo Nani 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 Sei nani Dai che se te la paro ho vinto No Sì Se la paro ho vinto No 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 Ma sta scherzando Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Abbiamo vinto Johnny Crick Vado Io ti voglio bene Johnny comunque Lo sanno tutti quanti Ti ho scherzando Oddio Come ha fatto Tirarla fuori Ho schiacciato La levetta Pochissimo È stata la partita Più assurda Che abbiamo mai giocato In live Ma perché Ha sbagliato È stata la cosa Più allucinante E più Il cuore Il cuore Signori Comunque ragazzi Allora Noi adesso ci riprenderemo Tra un paio di giorni Perché dall'altro Sono anche ammalato E con un infarto E Johnny Penso che debba recuperare Mi comprerò Tutti i giocatori blu E ti baggerò Il team Fratelli Vi voglio bene Vi vado a buttare Sui fidel Tra amore totale Noi ragazzi Questa è stata L'ultima partita Diciamo che Tricamente facciamo Con il nostro Ultimate Team Normale Però Se vi piace Tanto questa serie Vi piace vedere Le partite di FIFA Tra me e Johnny Così Noi abbiamo Tante belle idee Da poter fare Sempre su Ultimate Team Ma con delle squadre Molto particolari Chavi Chavi Probabilmente Per i prossimi episodi Ma gli ricordi il decisivo Gli dai 6 E 6,7 Ma che cazzo succede Comunque ragazzi Noi vi ringraziamo Ricordati di lasciare Un bel mi piace Un commentino E ci vediamo presto Con tanti altri video Anche con Johnny Stiamo vedendo di Sistemare un pochettino Tutto quanto Ringrazio Johnny Per Esserti divertito Con me No? Si Fratelli Vi voglio bene Piastrone Ti odio Ti amo 6 Al 6 E 7 Gli hanno dato Alla prossima ragazzi Qui da Ron e Johnny Bella a tutti Amore totale Bros